Ma pensare anche a cercare di conquistare lo Scudetto, di essere in lotta con la Juve fino alla fine, è impensabile o un obiettivo lontano oppure vi state avvicinando alla Juve? No, il nostro obiettivo è la Champions, poi se diamo continuità ai risultati, diamo continuità al gioco, quello che proponiamo in settimana, quello che propone il mister, lo staff, poi sicuramente se si fa bene si riuscirà a prendere qualcosa, però penso che sia ancora presto per parlare di Scudetto, siamo a ottobre, non si può parlare.